Il prestigioso Circo Orfei approda a Catania per la gioia di grandi e piccini, ma qualcosa ha impedito che il primo spettacolo si svolgesse. Siamo con uno dei responsabili del Circo Orfei e vogliamo capire cosa è successo. Veramente vogliamo capirlo pure noi ancora, perché non riusciamo neanche a renderci conto di quello che ci sia successo. Abbiamo affittato questo terreno dal privato che c'è l'ingestione, con tutti i regolari permessi e le cose che servono per spostare un circo. Non è che ci alziamo la mattina e vediamo che è bel terreno e portiamo il circo sul piazzale dove ci troviamo. Ci sono mesi di preparazione e di documentazione. Siamo arrivati qua con i nostri 30 passacamion, con tutte le persone che lavorano, bambini, montati, installati, gli animali e tutto. Il giorno stesso che dovevamo aprire ci hanno detto che dovevamo spostare il circo perché qua è zona balneare, per la spiaggia non ci sono... Potevano avvisarci prima, insomma. Volevamo l'ente fiera adesso a montarci davanti, di rimpetto, sembra che ci siano problemi anche lì. Ci hanno assegnato un'altra area dietro il palaghiaccio ma lì non ci stiamo, è troppo piccola. Speriamo che il sindaco si metta una mano su qualcosa che ci dia un aiuto perché siamo veramente in difficoltà. Ieri avevamo più di mille persone avanti al botteghino perché volevano entrare, bambini che piangevano. È stato veramente uno strazio, cose assurde da vedere. Specifichiamo che l'area presso cui avete iniziato i lavori di montaggio del tendone, di tutte le attrezzature del circo, vi era stata assegnata o segnalata dal comune e pertanto risulta veramente incongruente il fatto che poi la polizia locale non vi abbia fatto proseguire. È una cosa che questa è nata dopo, tra di loro, tra... Perché noi, il terreno ce l'ha in gestione un privato, il privato ci ha dato la carta che lui può fare eventi, può fare di tutto su questo terreno. Il circo è un evento. Abbiamo noleggiato il terreno per portare il circo. Abbiamo portato tutta la documentazione, le carte che vanno portate in comune e tutto quello che va fatto. Non ci hanno mandato la commissione di vigilanza, non sappiamo neanche noi perché ancora. Speriamo solo di risolverla perché ci sono veramente tante spese nel circo, tante cose, tanti animali, tante cose di difficoltà da superare. E speriamo che queste mille persone che non hanno potuto assistere al primo spettacolo possano venire ai prossimi risolvendo questi problemi e anzi moltiplicarsi in migliaia e migliaia di persone catanesi che desiderano vedere il vostro circo. Noi siamo fiduciosi e la nostra idea è di stare un mese almeno a Catania anche per riposarci un po' perché abbiamo una tournée molto dura. Facciamo una settimana e via per paese in tutta la Sicilia, una tournée che già dura da due anni, che ci dà tante soddisfazioni. Il primo intopo qui a Catania, che poi eravamo contenti, che sono nati due tigrotti bianchi, che è un evento, che due tigri bianchi è nati in cattività, veramente è un evento. E gli abbiamo messo il nome, sono due femmine, una si chiama Cati, come Catania, e l'altra si chiama Etna. E volevamo chiamarvi per questo evento, certo non per questa cosa che ci è successa, che purtroppo speriamo di risolverla. Di sicuro i catanesi verranno con gioia a vedere questi due tigrotti, Cati ed Etna. Vi aspettiamo, grazie.